Ragusa, aste giudiziarie in aumento, in provincia una ogni 300 abitanti Caso Loris, oggi perizia psichiatrica su Veronica Panarello Modica, pronto soccorso in tilt, colpa dell'amministrazione Sport, fine settimana di vittorie per le squadre ragusane Ben trovati con l'informazione di Canale 74 In provincia di Ragusa sono in forte aumento le aste giudiziarie Un incubo per molte famiglie, nel ragusano ce n'è una ogni 300 abitanti Sono 820 le aste giudiziarie pubblicate in provincia di Ragusa Pari ad 1 ogni 389 abitanti I dati sconfortanti sono stati pubblicati dal giornale di Sicilia Che sottolinea come si tratti di una diretta conseguenza della crisi economica Che ha messo in ginocchio anche il territorio ebleo Un tempo considerato isola felice di benessere Ad affrontare le difficoltà maggiori sono proprie settori trainanti Da quello dell'agricoltura a quello zootecnico Oltre la metà delle aste, ovvero 449, interessano immobili residenziali 244 terreni, 68 immobili commerciali 29 immobili rurali, 18 immobili industriali All'asta ci sono poi titoli azionari, attrezzature e macchinari Immobili sportivi e veicoli Per quanto riguarda il rapporto fra il numero degli abitanti e le aste giudiziarie Che sta a peggio è il paese di Monterosso Almo Con 25 aste su 3.075 abitanti Pari ad una media di un caso ogni 123 abitanti Seguono Chiaramonte con 52 aste Al terzo posto nella media c'è Vittoria Che con 237 aste giudiziarie In testa come numero assoluto Al quarto posto invece Giarratana con 11 aste Seguono Poecomiso e Dacate Una situazione drammatica Spia delle grandi difficoltà Che gli imprenditori attraversano in questo periodo Passiamo al caso Loris Oggi perizia psichiatrica su Veronica Panarello Da questa mattina la donna è nel carcere di Catania Veronica Panarello è stata trasferita questa mattina nel carcere di Catania Per essere sottoposta a perizia psichiatrica La giovane donna è accusata dell'omicidio del figlio Loris E dell'occultamento del suo cadavere I periti nominati dal GUP Andrea Reale Insieme ai consulenti tecnici di parte Procederanno al primo accesso per la perizia Che è stata richiesta dal legale della donna Francesco Villardita I periti nominati dal giudice sono Eugenio Auguglia Professore ordinario di psichiatria dell'Università di Catania E Roberto Catanese ordinario di psicopatologia forense Dell'Università di Bari La difesa ha nominato come consulenti di parte Giuseppe Sartori Neuropsicopatologo dell'Università di Padova E Pietro Pierini Psichiatra dell'Università di Pisa I consulenti di parte civile Sono invece la psicologa Maria Costanzo E lo psichiatra Giuseppe Catalfo Nominati dall'avvocato Daniele Scrofani Che rappresenta il padre di Loris e la nonna paterna Il nonno paterno di Loris Invece ha nominato tramite il suo avvocato Francesco Biazzo Silvio Ciappi Psicologo e criminologo forense di Siena E a Modica pronto soccorso in tilt Colpa dell'amministrazione Secondo l'opposizione Che presenta una cronistoria della vicenda Si continua a parlare della vicenda Del pronto soccorso di Modica Che ha visto l'intervento diretto del sindaco Abate Casualmente in transito per i locali dell'ospedale Maggiore Ma al di là della costante campagna elettorale Portata avanti dal primo cittadino Così come criticano oggi da più parti Le correnti politiche dell'opposizione modicana Sulla vicenda interviene Vito D'Antona Con una nota che sintetizza la cronaca Di quella che il consigliere stigmatizza Come un fallimento annunciato Dal 10 febbraio dello scorso anno Quando in una conferenza stampa congiunta Sindaco e direttore generale ASP Si parla di una ristrutturazione del pronto soccorso Dell'ospedale Maggiore di Modica Il cui bando sarebbe stato pubblicato Entro il 25 maggio del 2015 Con termine di ultimazione dei lavori Entro il maggio 2016 Poi si passa al 12 maggio Quando il sindaco interviene in conferenza stampa Per la presentazione del nuovo pronto soccorso Del Maggiore di Modica Dichiarando di aver messo insieme le risorse E di aver redatto un progetto esecutivo A queste promesse segue Un totale immobilismo amministrativo Nessuna notizia poi in merito all'area Da adibira parcheggio all'altezza del laboratorio analisi La cui chiusura da tempo impone I tanti utenti, soprattutto anziani Di percorrere a piedi lunghi tratti di strada Secondo il consigliere di opposizione Il sindaco non può limitarsi ad iniziative estemporanee Di fronte di servizi che i cittadini conoscono Già da tempo E che la stampa ciclicamente denuncia Il suo compito è quello di farsi ascoltare Nelle sedi competenti Di seguire e garantire alla città Che alle decisioni seguano i fatti Sancisce D'Antona Che chiede che si smetta di perdere tempo E che il sindaco riferisca al consiglio comunale E si affronti in tempi certi L'approvazione della gara d'appalto Per la ristrutturazione del pronto soccorso E del parcheggio di fronte al laboratorio analisi E Peppe Barone lascia l'incarico Di direttore della scuola di enogastronomia Mediterranea Nosco Pur rinnovando la volontà Di continuare ed operare Nella formazione dei giovani cuochi siciliani Si scioglie quindi il contratto Con la società che gestisce L'antico convento dei cappuccini Di Ragusa Ibla Il motivo è il progressivo accrescersi Di un divario nel modo di pensare All'impostazione della scuola E una coppia di gelesi a C'è posta per te Fa indignare il web Fischiati dal pubblico e massacrati sul web Non si fermano le polemiche Sulla coppia di Gela Che sabato ha partecipato Alla prima puntata di C'è posta per te La nota trasmissione di Canale 5 Condotta da Maria De Filippi I due gelesi, Orazio e Valeria Sono stati invitati in studio da Ilenia Figlia di una precedente unione dell'uomo Il padre infatti, secondo la ragazza Avrebbe interrotto i rapporti con lei A causa degli attriti con la nuova moglie Attriti che si sono potuti chiaramente Cogliere in puntata Valeria, l'attuale moglie di Orazio Infatti accusa Telenia di aver cercato Di creare problemi al matrimonio Cosa a quanto pare imperdonabile Nonostante a quell'epoca Lei fosse poco più di una bambina di 10 anni Un accanimento, quello della donna Nei confronti della figliastra Che ha fatto infuriare il popolo di internet Che non ha mancato di esprimere La propria indignazione sui social Con commenti e immagini create da Oc In seguito alle sue esternazioni Poco felici Tu a casa mia non verrai mai Io sono la signora del palazzo Crepa, tuona la matrigna In prima serata Nel frattempo l'uomo appare Succube della donna E non difende la figlia Appoggiando in tutto e per tutto La moglie Mettendo il suo ruolo di marito Davanti a quello di padre E al momento dell'inevitabile Chiusura della busta Da tutta Italia Sui social parte La condanna unanime Da gele cittadini Ci tengono a dissociarsi Non passi il messaggio Che tutti i cittadini gelesi Sono come quei due Precisane in tanti E a Ragusa Terremoto in casa Forza Italia Lascio Chipinti E altri rappresentanti Del territorio Un vero e proprio terremoto All'interno di Forza Italia Ragusa E' quello che è successo ieri Quando ben dieci consiglieri E' il leader del gruppo Hanno comunicato Di abbandonare il partito Una forte spaccatura All'interno di un partito Già fortemente in crisi A lasciare Forza Italia Giovanni Occhipinti Che ha cominciato Proprio a fare politica Con il partito Di Silvio Berlusconi Nel novembre del 2001 Candidandosi al Consiglio Provinciale E riconfermato Dopo cinque anni Al Consiglio Per diventare poi Presidente Dell'Assemblea Di Viale Delfante Una lunga carriera Quindi nel partito Di Forza Italia Così bruscamente interrotta Quella di Giovanni Occhipinti Non è comunque Una scelta solitaria Ma condivisa Da numerosi rappresentanti Delle istituzioni territoriali In molti si chiedono Per oggi Se la nomina Del senatore Giovanni Mauro A commissario provinciale Del partito Abbia influito Su questa decisione Resta il fatto Che rimane Una spaccatura profonda All'interno di un partito Quello di Forza Italia Sofferente Soprattutto nel territorio Ibleo 323 anni fa L'11 gennaio Del 1693 Il terremoto Che ha raso A suolo Il Galdinoto Ricorre oggi Il 323 Anniversario Del più intenso terremoto Della storia D'Italia Era l'11 gennaio 1693 Quando una scossa Di magnitudo 7.4 Colpì la costa orientale Della Sicilia Una scossa Che è passata La storia Come il terremoto Del Val di Noto Il devastante sisma Distrusse più di 45 centri abitati Causando circa 60.000 vittime Il bilancio fu dei peggiori Catania fu quasi interamente distrutta Così come sci reali Entri insediamenti sparsi Nella zona orientale dell'Etna Distruzioni vastissime Si verificarono Tra Ragusa Scicli Modica Noto Lentini E Siracusa Un avvenimento tragico Che ebbe un unico aspetto positivo La ricostruzione Che ne seguì Fu valorizzato infatti Il barocco siciliano Lo stile architettonico Con cui furono ricostruiti I centri distrutti Da quel sisma Nel corso del Settecento Se oggi noto Ragusa Catania Siracusa E moltissimi altri centri Grandi e piccoli Della Sicilia Sud orientale Possono vantare Un favoloso patrimonio artistico Lo devono a quella ricostruzione Che mise in piedi I veri portenti Di arte barocca E ha riscosso Grande successo Il seminario Svoltosi Per il terzo anno consecutivo Presso l'Istituto Verga di Modica Diretto ai docenti Di area linguistica Che riceve molti consensi Sia nella nostra provincia Che fuori Il seminario Ha lo scopo Di allargare E approfondire Attraverso i testi E documenti La conoscenza Di una civiltà E di una cultura E ha come obiettivo L'incremento Delle competenze linguistiche E l'ampliamento Da PGS Villauri A Palermo Il match Conclusosi con il risultato 28 su 17 Per i padroni Di casa Eblei È stato a senso unico Anche se disputato Sottotono Di certo Non è stata una Tra le migliori partite Così come afferma L'allenatore Danilo Scalone Ottima la prestazione Del portiere Davide Schembari Che ha pure parato Un paio di rigori La squadra Ora dovrà impegnarsi Di più Nelle prossime partite In trasferta Dove si deciderà Il loro destino Spiega il presidente Giuseppe Giras Mentre La passelacqua Spedizione Ragusa Risulta l'attuale Capulista Del massimo Campionato Di basket Femminile 13 vittorie Su 14 partite Disputate E ieri pomeriggio Ha portato a casa La vittoria Su parche di Cagliari Senza eccessive difficoltà Il cucciumolino Ha utilizzato Tutte le giocatrici A propria disposizione Gestendo al meglio Tutto il match La passelacqua Ragusa Sale dunque A quota 26 punti In classifica Sempre a pari Di con quelli di Lucca Ma con lo scontro diretto A favore Della formazione Biancoverde E la Pro Volley Team Modica Comincia bene Il nuovo anno Il 2016 Della Pro Volley Team Comincia con una Convincente vittoria Sulla Yamamei La Mezzia Che a dispetto Della classifica Si è dimostrata Squadra combattiva Con alcune interessanti Individualità Unica novità Rispetto all'ultima Esibizione del 2015 L'assenza di Daniela Cianflone Per infortunio Al suo posto Selene Richiusa Per il solito Sestetto Per il coach Cutrona L'inizio di partita È morbido E 24 punti In classifica Di differenza Si sentono tutti La prima reazione Delle ospiti Si registra Dopo il primo tecnico Quando si passa Da 8-3 A 16-11 Sul 18-12 Doppio cambio Per Cutrona Fuori Mercanti Corallo Per la coppia Gabriele Zaccaria Quest'ultima Entra bene in campo Con due attacchi Consecutivi Andati a segno E il sorpasso È proprio griffato Zaccaria Appena entrata Con lo stesso cambio Del primo set Qui insieme a Sara Gabriele Il terzo set Si apre con le novità Leggio per Di Emanuele E Gabriele per Mercanti L'andamento del piazzale Più regolare Rispetto al secondo Le volenterose La mettine Non possono nulla Contro la maggiore compattezza Delle biancorosse Dove Piscopo E Corallo Passano con regolarità Entrano Cassib Zaccaria Per richiusa E Corallo L'ultimo punto È un muro Di Ivana Cianci E poi tutti a festeggiare Con l'ormai consueto selfie Di Gabriella Mercanti Bene per oggi è tutto Questo era l'ultimo servizio Io vi ringrazio Per l'attenzione Arrivederci